Facciamo veloci perché sennò arriva in ritardo al lavoro. Sì, certo. Dai, andiamo a vedere che cos'è? Cosa vuoi che sia? Sarà le prove per la revocazione. Un minuto? No, sono già almeno un quarto. Andiamo? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.